Abbiamo la possibilità a loro di dialogare con Mario Costinelli e naturalmente nel libro si parla molto della trasformazione del clima e anche questo in qualche modo riguarda moltissimo la nostra città, tu sai benissimo che è una delle città più inquinate della Lombardia e noi qui abbiamo assistito a una strana situazione nel senso che l'area che respiriamo lo sappiamo tutti che è un'area pessima però in nome della complessità di quello che sta avvenendo e della complessità di quello che si può e non si può fare praticamente noi abbiamo assistito a una forma di immobilismo, è troppo complesso, non dipende solo da noi, non facciamo niente. e questa questione ci interroga molto perché il non fare niente significa che la situazione climatica peggiora sempre più.